Riqualificazione di piazza San Giustino, aumento dei posti auto al terminal, un parco al posto dell'ex scuola media Vincentini che verrà abbattuta. Sono gli interventi di riqualificazione urbana inseriti nel progetto Riqualifica Teate, redatto dall'ufficio tecnico del comune e da un team di professionisti, finanziato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri con oltre 11 milioni di euro. Ieri il sindaco di Chieti Umberto Di Primio a Roma ha firmato la convenzione che dà il via allo stanziamento dei fondi. Nel 2018 partirà la progettazione esecutiva e l'avvio delle procedure di gara. Nel 2019 verranno effettuati i lavori che si concluderanno nel 2020. Soldi che servono soprattutto per rendere una città più smart, cioè rendere una città più intelligente con infrastrutture digitali, con informazioni digitali, con mezzi di trasporto pubblico che sono ecologici. Insomma questa è la città che certo è stato necessario prima programmare, progettare. Oggi che abbiamo i finanziamenti è arrivato il momento di aprire i cantieri e realizzare le opere. Sono la risposta migliore che io e la mia amministrazione potessimo dare ai ciarlatani della politica che oggi fanno posizione in Consiglio Comunale, che organizzano cose inutili quando invece ci sarebbe da stringersi tutti insieme per il bene della città. Intanto l'opposizione dà appuntamento a tutti i cittadini teatini che contestano le scelte politiche dell'amministrazione di centrodestra il prossimo 23 dicembre alle 11 in piazza Gian Battista Vico. Il corteo si chiamerà Fai un bel regalo di Natale, dimettiti. Invito che il sindaco non raccoglierà ma che esprime chiaramente il dissenso per l'operato del primo cittadino. Invito lanciato su Facebook dall'Altrachieti e raccolto dai consiglieri comunali di minoranza a seguito dell'ultima polemica sul Natale spento e al risparmio. Per Enrico Raimondi dell'Altrachieti, se un comune non ha la capacità di programmare risorse per abbellire la città nei periodi festivi significa che qualcosa non funziona.